Bisogna chiudere a stretto giro la partita della vendita della Gran Sasso Terramano e permettere la riapertura dell'impianto della Madonnina e Pratiitivo in vista della bella stagione. Questo è l'input della provincia di Teramo, confermato e votato all'unanimità nell'ultima assemblea dei soci. Entro il 30 aprile, quindi, l'assegnatario provvisorio della GST, la ditta Marco Finori, sarà convocata per la firma dal notaio per il contratto d'acquisto. Nell'eventualità di un suo rifiuto si farà scorrere la gradatoria convocando il secondo offerente. Una vicenda su cui l'ASBUC di Pietra Camela ha annunciato la sua disponibilità a dare la concessione dei terreni dove insistono gli impianti fino al 2023, ma a condizioni che sia una nuova concessione non una proroga di quella in vigore e che entro il prossimo 30 aprile ci sia un proprietario delle attrezzature. Ah sì, l'appuntamento più importante è il 30 aprile, come ha deciso l'assemblea dei soci, dove verranno convocati il primo offerente, ovvero chi si è attribuito il bando, la ditta Finori, e anche il secondo offerente, la ditta Persia, e vedere lì cosa succede se qualcuno sottoscrive l'atto notarile. Quindi da lì poi si parte per tutta l'evoluzione in positivo del problema praticativo, gli impianti. L'obiettivo è quello di riaprire il prima possibile gli impianti, in particolar modo la cabinovia della Madonnina per l'estate? Sicuramente sì, perché il periodo estivo è uno dei più importanti per praticativo. C'è una concessione in essere per cui il gestore, che è la stessa ditta che si è attribuito il bando, ovvero l'ha detto a Finori, ha la piena disponibilità di aprire gli impianti. Non lo ha fatto per questo periodo invernale, adducendo molte problematiche. Io spero che queste problematiche si risolvano per il periodo estivo. Possiamo dire la montagna è unita per un unico obiettivo? Sicuramente, noi cerchiamo sempre di facilitare il compito e la gestione di questi impianti, perché sempre nell'ambito della regolarità, perché è importante per il territorio. Grazie. Grazie. Grazie.